Aumenta progressivamente velocità l'autostart, si ritrae Andrea Guzzinati con Puerto Rico che chiude da favorito. Prestigiosa HBD e Paconec in lotta per il comando. Prestigiosa HBD scavalca Paconec in terza posizione. Pragmatic B, quarta all'esterno più bella Griff, quinta di dentro per Wink RL avanti a Puerto Rico e prima fila all'esterno. Impiegata prestigiosa HBD avanti a Paconec. Prestigiosa HBD continua su Paconec, poi Pragmatic B, quindi all'esterno sempre più bella Griff. Non ci sono variazioni all'uscita dalla curva con prestigiosa HBD leader. 29 netti il quarto iniziale, comanda prestigiosa HBD, secondo i cuori Paconec, terzo di dentro Pragmatic B, quarta all'esterno più bella Griff. Poi per Wink RL, prima fila è Puerto Rico, 43,7 per il 600, alla media di 13, scarso, con Paconec che è a lato di prestigiosa HBD in terza posizione, Pragmatic B. Metà corsa, 29,4 per il secondo parziale, 58,4 per gli 800, alla media di 1,13. All'avanguardia prestigiosa HBD, secondo i cuori Paconec, in terza posizione, Pragmatic B, poi più bella Griff a largo. Completamento del giro in 13,6, sempre all'avanguardia prestigiosa HBD, su Paconec, Pragmatic B, più bella Griff per Wink RL, prima fila e poi dalla retroguardia Andrea Guzzinati sposta in avanti il favorito Puerto Rico. Prestigiosa HBD e Paconec in linea, 29,9 il terzo quarto, completamento della curva e ingresso in dirittura, Paconec che passa su prestigiosa HBD, Paconec, prestigiosa HBD, poi più bella Griff e Puerto Rico a largo di tutti. Tanto per linea interna è recuperato anche Pragmatic B, Pragmatic B su Paconec, Pragmatic B, Paconec, più bella Griff per Wink RL, Puerto Rico. Pragmatic B, 41,11 la quota, 32 il quarto conclusivo, 1,58,5 il tempo totale, la media al chilometro di 1,14,1. Pragmatic B era buono il periodo, una vittoria l'11 di luglio, un secondo posto ad Alvenga il primo di agosto, va bottino pieno. Fabrizio Fiorino con Pragmatic B, la media di 1,14,1. In seconda posizione il 2 Paconec, in terza il 7 più bella Griff, poi per Wink RL a lasciare solo quinto, il favorito Puerto Rico.